Recentemente l'annuncio di Nadia Toffa in televisione ha fatto molto scalpore, dato che la conduttrice delle Iene ha dichiarato di aver avuto un cancro. La questione su questo brutto male si è dunque riaperta, riportando alla luce le modalità con le quali combatterlo. Secondo la Toffa l'unico rimedio è la medicina. Ma qual è lo stile di vita da mantenere? Ecco le 10 regole da seguire per ridurre al minimo il rischio di ammalarsi. 1. Smettere di fumare. Se nessuno fumasse, il cancro ai polmoni sparirebbe quasi del tutto. 2. Mantenersi snelli e in forma. 3. Abbronzarsi con oculatezza. D'estate è difficile non farsi prendere dalla mania della tintarella, ma per evitare la comparsa di melanomi bisogna evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, specie per i bambini. 4. Aderire ai programmi di screening. Se prevenire è mille volte meglio che curare, aderire ai programmi di screening per cancro di intestino, seno e cervice può aiutare ad individuare la presenza del tumore ancora prima che compaiano i sintomi. 5. Limitare l'alcol. Si dice che un bicchiere di vino al giorno allunghi la vita, ma anche in questo caso non bisogna eccedere perché l'abuso di alcol rischia seriamente di mettere in crisi il nostro organismo. 6. Limitare il sale. 7. Meno carni rosse. Il consiglio dell'IRC è quello di consumare un massimo di 500 grammi di carni rosse a settimana. 8. Evitare le carni conservate. 9. Preferire cereali, legumi, frutta e verdura e il pesce. 10. Sesso protetto. Attenzione ai rapporti occasionali. Dato che circa un quinto dei casi di tumore del mondo sono provocati da agenti infettivi, un caso diffuso è quello del papillomavirus, principale causa del cancro alla cervice. Ciao! 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 Ciao!